A tre giorni dall'apertura ufficiale della sessione estive del calciomercato iniziano a trapelare anche le prime indiscrezioni sui movimenti in entrata della Cavese. I bianco-blu infatti sembrerebbero vicini all'ingaggio di Alessandro Rossi e di Daniele Biondo. Rossi, classe 92, è un centrocampista offensivo che nell'ultima stagione, con la maglia del Sansevero in Serie D, ha messo a segno ben otto reti in trenta presenze. Romano di nascita, cresciuto calcisticamente nella Lazio, nel suo curriculum vanta tre stagioni in C2 con il Chieti ed una in Serie D, quella dell'esordio con il Flaminia Civita Castellana, mancino naturale dotato anche di un buon tiro dalla distanza. Caratteristiche fisiche e tattiche simili per Daniele Biondo, classe 91, proveniente dal Messina. Biondo, nativo di Palermo, è cresciuto nel Siriacusa. Nel suo curriculum anche Taranto e Cosenza, oltre che una stagione vissuta nella Liga Adelante in Spagna con la maglia del Ronda, dove colozionò 14 presenze ed un gol.